Zone economiche speciali, un'altra opportunità di sviluppo mancata per l'Abruzzo. E' questo il tema della conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Pescara e che ha visto la partecipazione del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, del senatore Nazario Pagano, del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca accompagnata dall'assessore Tonino Marcello e del componente del CDA dell'Arap Giuseppe Savini. Questo governo regionale ha girato l'Abruzzo, il territorio soprattutto sud della provincia di Chieti, per dire che ci sarebbe arrivata l'Azessi insieme con il Molise. Finalmente il 7 agosto arriva questa delibera che viene pubblicata qualche giorno fa. Io prendo contatto con il Molise per capire bene come si sarebbero mosse Abruzzo e Molise. Mi dicono dal Molise che 5 giorni prima, cioè il 2 agosto con la delibera 395, loro hanno deciso di andare con la Puglia perché dall'Abruzzo non c'erano stati segnali di interesse e di attivazione. È di una gravità enorme. Se a ciò aggiungiamo che il 28 agosto, cioè 26 giorni dopo la delibera del Molise, l'attuale presidente facendo funzioni, il vicepresidente Lolli, incontra Convindustria che oramai da mesi sollecita l'attivazione di questa zona, che porta sviluppo, che porta benessere, che porta agevolazioni fiscali, che porta sgravi, che porta tante altre cose e il presidente assicura che si sarebbe attivato con il Molise. Quindi la domanda che ci poniamo è, oltre a prendere in giro gli abruzzesi con i fantamilioni che giornalmente ci preannunciava il presidente D'Alfonso, ma al suo punto questi signori con il Molise ci hanno mai parlato. È una presa per i fondelli per gli abruzzesi, ma soprattutto è un danno enorme all'economia abruzzese. Abbiamo perso anche questo trino.